Un libro per l'Europa, di Thierry Vissol. Allora, Giorgio Zanchini, è morto il giornalismo con la rete? No, è stato molto trasformato, ha subito soprattutto alcuni dei media dei colpi che ne rendono il futuro molto incerto, ma può non solo sopravvivere, ma a mio modestissimo parere persino prosperare. Lo dico perché televisione e radio sono state costrette a aggiornare i loro linguaggi, a cambiare perché la rete ha imposto il cambiamento un po' a tutti ed è diventato teatro, quindi scena in cui tutto si svolge, ma anche attore, quindi produttore di contenuti informativi, ma anche il luogo in cui quasi tutti sono costretti a trasferirsi. Per la televisione e per la radio questo in qualche modo ha persino rappresentato una sfida positiva, cioè se ne sono usciti quasi rafforzati. Chi è stato trasformato e purtroppo, aggiungo io, vive un momento particolarmente difficile è il giornalismo di carta stampata, cioè il giornalismo quello tradizionale che ha dominato il Novecento con i giornali. Lo dico anche perché, ad esempio, le pagine culturali e le informazioni culturali lì hanno trovato il loro luogo più forte, di trasmissione di saperi più solido e forte. Per il giornalismo di carta stampata la rivoluzione digitale, quindi l'affermarsi della rete e il dominio dei dispositivi mobili, soprattutto per le corti più giovani, cioè ragazzini, adolescenti e giovani, rappresenta una sfida difficilissima. Basta vedere i dati e i numeri internazionali, si comprano sempre meno giornali, quando uno si rivolge ai ventenni e chiede chi di voi compra il giornale tutti i giorni e legge il giornale cartaceo tutti i giorni, praticamente non si alza più nessuna mano. A tutti è sufficiente l'informazione che ricevono attraverso i dispositivi mobili. Qua c'è un piccolo problema, perché, come tu lo dici nel tuo libro, c'è il problema di quello che si chiamano i mediatori, cioè il giornalismo di cartacea, di giornalismo dei giornali, ma anche quello della televisione. Prima c'era gente in grado di semplificare un po' la complessità, di spiegare, di darti dei elementi di comprensione. Ora questo sta scomparendo con la cultura del protagonismo, dei selfie, del volere essere se stesso e quindi di criticare l'autorità. E quindi andiamo verso un'informazione che è molto più superficiale, molto più fluida, come dici tu. In realtà io ho l'impressione che la mappa del presente sia molto dispersa e difficilmente fotografabile. Cioè il perimetro sfugge, ci sono luoghi di grande profondità, luoghi in cui si fa grande giornalismo, si legge grande giornalismo, però sono tante nicchie in cui è molto difficile leggere le gerarchie e dare un ordine, un significato complessivo condiviso. Questo è il vero problema, secondo me, della contemporaneità. Io non sono in grado di dire se sia crescendo la superficialità è un modo di informarsi più orizzontale, meno profondo, meno cristallizzato. Sinceramente non sono in grado di dare una risposta perché dovremmo usare, secondo me, degli indici, delle categorie, attraverso appunto studi della società, sociologici, analisi, il census, l'istat, che ci dovrebbero spiegare a un ventenne di oggi quali strumenti di competenza e di capacità di leggere matematica e grammaticale ha rispetto a un ventenne di trent'anni fa. Quindi secondo me è ancora prematuro un'analisi su questo. Sì, tuttavia quello che tu stai dicendo nel tuo libro è che c'è un rischio grossissimo che viene dall'uso della rete. Perché effettivamente la contestazione dell'autorità conduce effettivamente a non volere più leggere il media tradizionale, che è il giornale, che ti può dare qualche indicazione, ma a utilizzare quello che si trova sulla rete. Ora quello che si trova sulla rete è, diciamo, manipolato, direi forse esagerando, dalle grandi multinazionali che sono Google, Facebook, eccetera, che grazie ai loro algoritmi ti mandano l'informazione che pensano sia per te e non ti permettono più di aprirti al mondo, di avere una critica, di avere contestazione, è così? Allora Thierry, io penso che tu abbia un pregiudizio negativo nei confronti dei grandi players americani, attori americani che, diciamo, accetto. Ma tu dici anche che si vorrebbe uno che sia europeo, ma che non sa la copia di Facebook, quindi mi sembra che la mia critica... A mio avviso ci vorrebbe probabilmente non solo un motore di ricerca europeo pubblico, che mi sembra un po' difficile, ma insomma dei contropoteri rispetto a quei grandi attori obiettivamente servirebbero, perché il vero rischio non è tanto per le persone che hanno avuto dei buoni studi, delle famiglie in cui hanno studiato, il vero rischio è per le persone che non hanno quella che si chiama la media literacy, cioè che non sono state educate, alfabetizzate nelle scuole, nelle famiglie, all'università, con i loro amici, perché lì davvero sei in qualche modo privo di strumenti per poter leggere il presente, senza... E la rete obiettivamente è un'enorme macchina di seduzione, che forse da sé non basta, se io non ho la capacità di leggere, appunto, smascherare i poteri, anche quelli delle multinazionali americane, di capire dove è la notizia, l'informazione, il sapere affidabile, profondo, critico, che mi permetta di leggere il presente. Questo è obiettivamente un grande problema. E quindi sarebbe un po' come la mela di Eva, cioè molto bella, molto buona, ma dietro c'è l'inferno. È esagerata, mi pare, questo paragone, questa metafora, però obiettivamente dobbiamo lavorare molto sull'alfabetizzazione, soprattutto dei ragazzi, dei più giovani. E quindi per la vostra informazione, diciamo, mediata, vi consiglio di leggere questo libro di Giorgio Zanchini, Leggere Cosa e Come, l'informazione e il giornalismo culturale nell'era della rete, pubblicato da Donzeli nel 2016.